Niente Medical Wellness in Valsogana. La Levico Terme S.p.A. rinuncia al progetto. L'iniziativa doveva servire per guardare con fiducia al futuro. Dotare le terme di Levico di un nuovo Medical Wellness, un progetto di project financing con la provincia pronta a sostanziare oltre 5 milioni di euro. Alla fine però, dopo due anni di rallentamento, causa pandemia e problemi di varia natura, l'Assemblea della Levico Terme ha deciso di soprassedere e, come si dice in questi casi, di non fare il passo più lungo della gamba. Troppi rischi da sostenere per i soci, imprenditori, albergatori e ristoratori del territorio. Costi eccessivi, impegni finanziari troppo rischiosi. Da qui la decisione di gettare la spugna e lasciare il sogno del Medical Wellness Alevico in Val Sugana nel cassetto.